Ciao! Oggi in questo video parliamo di come avviene il trattamento delle afte e delle lesioni erpetiche, quindi del famoso herpes che può avere le abbra. Le afte sono purtroppo delle lesioni che sappiamo bene essere veramente molto 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 dolorose, che sono legate solitamente a degli scompensi del sistema immunitario oppure anche ad esempio ad allergie alimentari o ad altri tipi di problematiche. In bocca si manifestano solitamente con delle lesioni molto dolorose solitamente nel labbro, nella lingua o comunque nei tessuti appunto delle mucose, non nelle gengive vicino ai denti, che sono caratterizzate da un bordo intorno rosso molto forte con una zona bianca interna quindi al centro, che è quella dolorosa, che è bianca appunto perché c'è un po' di essudato e si è creata questa piccola lesione appunto fastidiosa. Le afte appunto possono essere ricorrenti oppure, spesso anche senza causa, ma dovute come abbiamo detto prima a volte a uno scompenso del sistema immunitario, oppure speriamo a volte solo localizzate dovute a qualche problematica particolare guigni temporanea. Come possiamo aiutarvi per trattare le afte? Innanzitutto a casa ci sono degli ottimi prodotti, solitamente a base di aloe o di acido lialuronico, che permettono spruzzati sopra, di creare una piccola patina che velocizza e rende più rapida la guarigione e riduce un pochino il disagio. Oppure ci può venire in aiuto sicuramente l'utilizzo del laser. Il laser, utilizzato con una procedura veramente molto rapida e poco invasiva, permette solitamente di velocizzare la guarigione dell'afta stessa e anche di ritardare, in caso di aftite ricorrente, di ritardare, di lazionare in maniera più importante la fase fra una seduta e l'altra. Sicuramente, cosa molto importante da dire, che il trattamento laser non è che io passo il laser ed è risolutivo, non compaiono più, ma bisogna appunto andare, aiuta a migliorare la guarigione e bisogna però andare a fondo e capire esattamente la causa. Ad esempio, se una presente un'allergia alimentare dovuta ad alcuni alimenti, è fondamentale ridurne l'uso o a proprio evitarli. Quindi abbiamo valutato la valutazione appunto delle afte. Per quanto riguarda gli herpes, dovuti appunto a un'infezione da herpes simplex, appunto un virus che solitamente e purtroppo rimane nel nostro corpo e periodicamente, sempre magari in momenti un pochino in cui il sistema immunitario è un pochino più devole, escono creando queste bollicine, queste vescicole spesso molto fastidiose alle labbra. In questo caso i farmaci sono efficaci, come la ciclovir, solo però in fase prodromica. Cos'è la fase prodromica? E' la fase che avviene prima della comparsa delle vescicole. Qualora accompagnano le vescicole, invece i farmaci sono un pochino meno efficaci e può essere, come nel trattamento delle afte, utile l'utilizzo del laser. Spero che questo video ti abbia dato delle informazioni interessanti e qualora tu avessi bisogno, siamo a tua completa disposizione. Grazie! Grazie!